Alessandra Amoroso diventa mamma. La cantante ha deciso di trascorrere le vacanze. Estive in Salento, insieme al compagno e alla sua famiglia, tra i quali ci sono i suoi genitori e la sorella Francesca, con la figlia Andrea, di pochi mesi, con la quale Alessandra sta facendo prove da genitore. Sembra proprio che, secondo il settimanale diva e donna, la cantante e il compagno sarebbero intenzionati ad avere un figlio nel 2018. L'amoroso, poco tempo fa, aveva dichiarato il suo forte desiderio di maternità. Grazie. 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 Grazie.